Quanti significati sono celati dietro a un abbraccio? Che cos'è un abbraccio se non comunicare, condividere e infondere qualcosa di sé ad un'altra persona? Un abbraccio è esprimere la propria esistenza a chi ci sta accanto. Qualsiasi cosa accada nella gioia e nel dolore. Esistono molti tipi di abbracci, ma i più veri e i più profondi sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti. A volte un abbraccio quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt'uno. Fissa quell'istante magico nell'eterno. Altre volte ancora un abbraccio se silenzioso fa vibrare l'anima e rivela ciò che ancora non si sa o si ha paura di sapere. Ma il più delle volte un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro. Affinché possa continuare il proprio cammino, meno solo.